Con l'accusa di avere sottoposto ad usura alcuni imprenditori che si trovavano in difficoltà a causa delle conseguenze della pandemia sulla loro attività, i carabinieri di Sellia Marina hanno tratto in arresto 5 persone. L'indagine ha preso spunto dalla denuncia presentata nel febbraio del 2020 da una delle persone sottoposte ad usura con problemi economici provocati dall'incidenza del Covid, che aveva riferito di avere ricevuto un prestito con un tasso di interesse mensile pari al 13,75% dell'importo finanziato. Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP distrettuale di Catanzaro su richiesta della DDA. Per quattro di essi, che risiedono a Cropani e ad Isola Caporizzuto lungo la fascia ionica, è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre al quinto sono stati concessi gli arresti domiciliari. I reati contestati sono usura in concorso estorsione ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria con l'aggravante del metodo mafioso. Gli imprenditori vittime di usura, secondo quanto si è appreso successivamente, svolgono la loro attività soprattutto nel settore del commercio e vivono a Cropani, centro ricco di attività economiche in provincia di Catanzaro. Sarebbero almeno sette gli imprenditori del commercio e di altre attività economiche in difficoltà a causa della crisi pandemica che sarebbero state vittime delle attività d'usura.